tra gli antagonisti verso il suo nuovo modo di spiegare e hanno capito che facendo soltanto fra gli ebrei allora non riusciranno a cancellare la sua influenza sugli ebrei. E perciò hanno cercato di coinvolgere il governo russo, di proprio cercare di proprio ammazzarlo che così non ci sarà questo pericolo per l'ebraismo. Siccome tanti chassidi vedendo come i loro fratelli ebrei sono contrari di questo nuovo modo di vivere ebreismo loro non potevano vedere religiosi che si litigavano uno con l'altro allora hanno deciso di andare in Israele e così si evita di avere questi colpi di cuore. E in Israele in quei tempi c'era proprio soltanto povertà allora l'alto ebrei, Rabbi Shriya Zalman, accoglieva soldi in Europa e in Russia e li mandava in Israele a mantenere queste famiglie chassidici e così i nemici dei chassidi hanno trovato un modo di incolpare l'alto ebrei. Scusi, siccome c'è stato un problema con la diretta, per risintetizzare come ho detto prima siamo nel contesto dell'Europa dell'Est, i chassidim sono appena formati come gruppo per aiutare gli ebrei poveri si trovano anche, oltre che i cosacchi contro, anche altra corrente degli ebrei che sono preoccupati di questa nuova corrente nascente che si dedica agli ebrei poveri. Allora, siccome in quei tempi Israele era sotto il dominio dei ottomani che erano di Turchia e allora mandando soldi a Israele hanno detto che l'alto ebrei, Rabbi Shriya Zalman lui sta cercando di dare una mano agli ottomani che loro sono in guerra con Russia allora quindi è stato arrestato l'alto ebrei e volevano proprio metterlo fuori uso e c'erano tantissimi, tantissimi miracoli in questa faccenda e finalmente dopo 53 giorni è stato dimostrato che lui è una persona innocente non ha niente a che fare con ribellione, non ha niente a che fare con armi non ha alcun interesse diciamo di aiutare gli ottomani e 19 giorni nel mese di Kislev è stato liberato e i chassidim hanno visto la mano di Hashem è stato proclamato un giorno di festività perché così lo studio del chassidismo potrebbe andare avanti per diciamo il grande risultato che si è manifestato dopo specialmente oggi viene considerato come capodanno del chassidismo del corrente Chabad lo studio, diciamo, il suo opera basilare del chassidismo Chabad dove spiega abbastanza ampiamente il suo modo di capire e spiegare la Torah ma secondo il chassidismo si trova nel libro Tanya Likutei Amarem perciò oggi chi è considerato capodanno per il chassidismo vorrei soffermarmi a insegnare una parte del primo capitolo e in questo primo capitolo vediamo dove vuole arrivare l'alterebbe Rabbi Schneer Zalman con il suo studio primo capitolo dice, scrive l'alterebbe Rabbi Schneer Zalman si chiama l'alterebbe un vecchio rabbino perché dopo di lui c'erano i suoi figli, i dipotti eccetera allora il primo viene chiamato l'alterebbe il vecchio rabbino Tanya Rabbi Schneer Zalman comincia la sua opera con parole del Talmud Tanya abbiamo studiato per Gimbal di Nidal alla fine del terzo capitolo del trattato Nida del Talmud c'è scritto così nell'agmara ma Shbi'in otto primo che un'anima scende dall'alto in questo mondo si fa a lui giurare all'anima Shavua vuol dire un giuramento ma viene chiamato Shavua Shavua perché un giuramento è una sensazione di forza quando uno giura chi non farà una certa cosa allora viene proprio aiutato di questo suo giuramento che lui non può cambiare allora ma Shbi'in otto si fa a lui giurare vuol dire che si dà all'anima delle forze incredibili di essere un tzaddik un uomo giusto e non essere una persona malvagia scendendo in questo mondo allora ci sono tutti i tipi di difficoltà allora si dà all'anima delle forze di contrastare tutte le sue difficoltà e riuscirà ad essere un uomo giusto e non un malvagio continua il Talmud ma filu kol haolam kulo anche se tu arrivassi a livello che tutto il mondo saranno d'accordo omrim di dire lecha su di te sadikata vuol dire di essere un vero uomo giusto perché accontentare tutti diciamo da tutte le parti che tutti saranno d'accordo che tu sei un uomo giusto ci vuole veramente una grandissima diciamo raffinatezza giustizia sincerità anche se tutto il mondo ti dicono che sei un uomo giusto tu da conto tuo e i ebi e i nek devi considerarti nei tuoi occhi che raffina come un malvagio tu stai dedicando giorno e notte fai qui e lì e tutti ti dicono guardi da centinaia di anni non c'era mai una persona così integra come te fra te e te devi dire purtroppo sono io un malvagio così dice l'agmara nel trattato di dà allora chiede Rabbi Shneza è giusto non si può discutere una cosa che c'è scritto nel Talmud corrisponde alla verità al cento per cento però dobbiamo capire allora chiede dobbiamo capire queste parole del Talmud non perché io sono limitato ma perché in altre parti nel diciamo nella Mishnah abbiamo studiato in una Mishnah nel perché avot nel secondo perio c'è scritto chiaro lì una persona non deve mai considerarsi un malvagio perché se una persona specialmente se lui si dedica a vivere secondo la religione ebranca eccetera che non è molto facile è molto faticoso e nonostante ciò una persona si sente come un malvagio allora uno dice non ne posso più allora arrivederci ma soprattutto perché uno dovrebbe sentirsi come un malvagio se tutti gli altri che lo conoscono lo ammirano ecco allora questo è però c'è scritto chiaro nella Mishnah c'è scritto che una persona non deve mai considerarsi un malvagio perché si perde proprio speranza allora diciamo butto il spugno e basta arrivederci non voglio avere a che fare però oltre a guardare la Mishnah che c'è scritto chiaro che una persona non deve mai sentirsi un malvagio begame è anche una cosa logica se la persona considererà se stesso come un malvagio allora sarà molto diciamo disgustato con se stesso sarà molto triste e sarà proprio giù di morale e non potrà servire Hashem con felicità noi sappiamo se una persona vuole arrivare ad essere energetico deve essere in buoni buoni sentimenti se uno diciamo si sente giù allora si alza la mattina sono stanco e va di nuovo a dormire una persona se vuole veramente essere energetico deve essere felice con la felicità viene anche diciamo la voglia di fare un buon stato d'ordine si e allora se una persona deve sentire se stesso come un malvagio allora sarà triste allora non potrà servire Hashem e non soltanto che non potrà servire Hashem non potrà servire Hashem con felicità uno fa tutte le mezze però con un lungo naso allora dimostra che per lui il servizio da Hashem un peso allora non va bene un momento magari seguendo l'istruzione dell'agmaracchi uno deve sentirsi malvagio però non può essere triste perché se è triste non potrà servire Hashem allora mettiamo tutte le due cose insieme uno deve considerarsi un malvagio però deve essere felice perché se non è felice non potrà diciamo servire ma se lui non si sentirà male che lui è in uno stato di malvagio allora allora arriverà io faccio tutto e Torah stessa mi dice che sono malvagio allora chi mi fa fare perché dovrò io faticarmi alzarmi presto alla mattina studiare tutto giorno e diciamo fare tutto 613 e non ottiene niente non ottengo niente allora chi mi fa fare arrivederci allora non è possibile che questo è la volontà di Hashem ma noi dobbiamo capire che cosa sta dicendo l'Agmara oltre che c'è una contraddizione di un'altra parte dei diciamo perché Avot etici dei padri ma è logico anche che non si capisce ok allora Rabbi Shneir Zalman comincia a spiegare a Khainyan per poter capire questa faccenda parlando di tipi di persone allora che in Mazzini e B'G'mara troviamo nell'Agmara ci sono cinque categorie di persone ci sono cinque diversi livelli di persone uno Saddiq Vittovlo uomo giusto quando arriverà in paradiso dopo centovent'anni tutte le porte aperte avrà una villetta vicino a Mosher Rabbeno Abram Yitzchak Yacob tutte le porte aperte Vittovlo però anche in questo mondo diciamo c'ha una bella macchina una brava moglie bravi figli riesce a pagare l'affetto sta bene in questo mondo questo è un tipo di uomo giusto poi c'è un altro tipo Saddiq uomo giusto però veralo però quando dopo centovent'anni di nuovo un'altra villetta con tutti i confoli vicino a Mosè Abram Yitzchak Yacob è un vero giusto però in questo mondo ha una moglie ma meglio non parlare è casa sua c'è sempre diciamo entra la pioggia ha un bicicletta che si rompe sempre sta male in questo mondo non riesce a pagare l'affetto c'ha sempre problemi uno questo è un altro tipo si uomo giusto però sta male in questo mondo poi c'è un terzo categoria Rashad un malvagio però Vittorovlo sta bene in questo mondo capo mafia lui fa ammazzare gente però lui ha le sue macchinine ha i suoi conti bancai ha i suoi amici sta bene in questo mondo poi c'è Rashad malvagio verano che sta male lui fa una rapina in banca viene sempre preso dai poliziotti mannaggia è un malvagio dopo 120 anni mamma mia ci metteranno diciamo il riforme però anche in questo modo non riesce a vivere decentemente e poi c'è una quinta categoria è un uomo mediocre così un po' così un po' colato allora come mai ci sono queste cinque categorie di personaggi il Pirshu Big Marah spiega l'Akmarah il Talmud Zadig Vittoblo un giusto che anche sta bene in questo mondo perché Zadig Amur è un Zadig un giusto perfetto non manca lui nulla proprio wow wow e allora siccome non fa mancare niente allora perché dovrà lui avere delle mancanze allora il paradiso assolutamente ma anche in questo mondo c'è come abbiamo parlato non gli manca niente c'è tutto perfetto diciamo per quanto può essere un uomo perfetto è certo quello che c'è Dio è padron Dio è padron e siccome Dio vede che quest'uomo fa al massimo suo e allora ascemmo da tutto diciamo come si deve poi c'è Zadig Veralo un Zadig che sta male perché Zadig Xenogamor che è un uomo giusto però non è perfetto ci manca qualche cosa potrà diciamo dedicarsi nella preghiera un pochino di più a volte diciamo durante la filale viene devo pagare la banca pensare di pagare la banca allora ti do io da pagare allora trova la sua bicicletta è stato bucato per farlo migliorare la sua situazione allora Ascemmo dà difficoltà e che lui è un uomo giusto capisce che non succede niente per niente vuol dire che io ho pensato oggi durante la trivila che devo andare alla banca allora quindi ecco il risultato è che la mia bicicletta è bucata la ruota ecco perciò lui ha dei problemi perché non è perfetto c'è qualche cosa che manca questo è come spiega la Gemara e la Gemara è la Torah rivelato che ognuno può leggerlo e capirlo e vedere i risultati però e in questo commentario sullo Zohar che lo Zohar è la prima opera della Kabbalah che è proprio il genitore del Hasidismo che lei viene trattato tutti gli argomenti in una maniera più profonda spiega le stesse parole della Gemara però in una maniera più profonda le stesse parole della Gemara del Talmud dice Tzadik verralo Tzadik che ha qualche problema allora studiando la Gemara Tzadik verralo c'è una bicicletta che si rompe se spiega il Raya Mahem questo commentario sulla sullo Zohar Tzadik verralo non è che si parla della bicicletta e diciamo soffitto che perde acqua eccetera Tzadik un uomo giusto verralo e lui ha un po' di male nel suo cuore non ha fatto in una maniera di completamente trasformare il male che lui ha avuto dalla sua nascita di trasformarlo in bene o di scacciarlo via completamente e questo vuol dire Tzadik verralo non si parla di bicicletta di questo lato Tzadik un uomo giusto però ha ancora un microscopico diciamo batteria del male nel suo cuore ecco perciò ha anche la bicicletta male perché da dove viene questo batterio microscopico di male cioè lui c'ha la nascita della natura perché quando la mamma vede piange allora ecco si dà al bebé subito c'è un fratellino più grande due anni e il bebé vuole dai allora i genitori fanno di questo piccolo bambino un viziato e allora questo è il male che essere diciamo troppo egoisto che i genitori per diciamo mantenere la calma nella famiglia fanno diventare questo bambino un piccolo egoisto e questo è male e allora spiega il commentario sullo Zoar non si parla del bicicletta si parla sai che è un uomo giusto che fa tutto però ha ancora un po' di male nel suo cuore quindi per spingerlo avanti allora ha dei problemi anche materiali possiamo anche immaginare che se sia il caso che la sua Nishamah arrivata in questo mondo abbia qualcosa da rettificare no 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 l'anima è perfetta è un problema di di sì 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 l'anima è perfetta l'anima è perfetta e il corpo deve essere diciamo trasformato e diventare anche un corpo diciamo un vicolo di essere recepiente delle energie di vino questo è quello che spiega il Rai e Mehem questo commentario sullo Zohar e poi c'è un altro Agmarà che scusa allora spiega che il male che ha questo uomo giusto cafuf è completamente piegato è proprio così in microscopico vuol dire non viene sentito questo male nel cuore del giusto perché se si sente non è più giusto è una persona normale questa persona è un uomo giusto però siccome non arriva il suo meditazione ad arrivare a 360 diciamo chilometri all'ora di amore per Dio arriva soltanto a 180 invece questo quando c'è un saddick che lui fa le stesse meditazioni arriva tra 160 wow vola invece questa qua ha soltanto diciamo la stessa meditazione la stessa maestra eccetera arriva soltanto a 120 o 180 160 come mai si vede che ha qualche diciamo complicazione nel suo cuore che non lo lascia proprio arrivare in fondo questa è la prova che lui ha un po' di male come per esempio uno che ha la macchina che funziona bene però quando l'ho comprato il mio Volvo quando era un Volvo mettevo diciamo l'acceleratore traccesante e dopo un po' di tempo arriva soltanto 180 allora vado e c'è qualche cosa male però funziona sì siccome non va al massimo è un segno che c'è qualche problema e così anche il saddick che ha diciamo problemi è un segno che ha qualche residuo di male però non viene sentito perché se si sente il male allora non è più il saddick non è più un uomo giusto ok questo è la parte diciamo dello Zohar della parte più profonda della Torah poi troviamo anche nell'Aqmara un altro aspetto di differenza fra uomini giusti e uomini malvagi e in un gemara è sempre nel talmud so per tende di berghi nel tratato berghi lì è scritto così sono persone positivi risa e invece i malvagi chi è chi è quello che li guida chi li spinge quando sono a letto che pensieri fai questo rapino fai questo c'è questo qua che è troppo contento si vede che ha vinto il supremo lotto deve andare a fare una visita a casa chi li spinge chi li guida è la parte male negativa del suo cuore così scrive l'Aqmara il cuore si 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 uomini giusti vengono diciamo spinti guidati dal bene invece malvagi vengono spinti guidati dal male bene non è persone mediocre se ve se tutti e due li guidano ai pensieri buoni e anche i pensieri un po' diciamo meno buoni allora il maestro si chiamava Rabb stava studiando con i suoi allievi stava studiando questa Aqmara dei giusti e dei malvagi allora c'erano i ragazzi che erano intelligenti allora pensavano persone giuste abbiamo il nostro maestro e sappiamo com'è si è proprio giusto l'uomo giusto viene proprio spinto guidato dal bene persone malvagie meglio non parlare di chi però conosciamo abbastanza di questi qua ha ragione l'Aqmara dicendo che loro sono guidati dalle male guardi non si può diciamo stare vicino a loro perché succede di tutti colori però uomini mediocri qui è un argomento che potrebbe essere molto larga questa fascia di persone mediocre c'è uno che ha un bar però diciamo un po' meglio poi c'è l'altro che va sempre in tempio però diciamo si può discutere allora hanno chiesto maestro sadik conosciamo malvaggi conosciamo uomo mediocre ci dà un nome diciamo che possiamo capire che tipo è allora lui subito ha risposto ama rabba ha risposto rabba maestro di questi ragazzi cioè ragazzi di questi maestri chi non ha una persona tipo me benone è mediocre proprio si è venuto perché qui si parla di un maestro che deve dire insegnare la cosa giusta dottore dottore qui allora dico che si è saltato ah ma lo abbaie allora quando abbaie ha sentito dal suo maestro che lui è un mediocre allora lo shabik marhaile hobbi e tu non lasci nessuna persona vivere in questo mondo noi sappiamo che il mondo esiste perché ci sono persone giuste che fanno la volontà di Dio se nel mondo non ci sarà persone giuste che fanno la volontà di Hashem Hashem tira il corrente e il mondo viene senza bomba atomica Hashem decide che non gli conviene di tenere il mondo allora dimentichi di dare vitalità al mondo sparisci il mondo se tu che sei il miglior persona in questo mondo e dici che non sei neanche un giusto ma sei una persona mediocre tutti noi che siamo peggio di te allora siamo malvagi e allora tu non lasci nessuno nel mondo vivere allora quindi il mondo deve essere distrutto non è che lui era una persona umile perché qui si parla di un insegnante che deve dire le cose diciamo come si deve e anche umiltà non c'entra qui niente c'è uno Einstein che lui è wow wow e un ragazzo gli chiede due per due ma io non so allora non è un umile è un bugiardo cosa vuol dire cioè devi dire guardi io Baruch Hashem grazie a Celsiorno Einstein però se qualcun altro aveva i miei genitori aveva le mie istruzioni sarebbe meglio di me questo è umiltà però non puoi dire una cosa che non corrisponda alla verità e allora Uleavim cosa continuo di capire tutto questo tutto questo vuol dire malvaggi che stanno male e di capire quello che ha risposto Rabba ai suoi allievi bigam è avere anche di capire Masha Amar Iov quello che ha detto Giove Giove aveva dei dolori mamma mia terribile terribile allora lui prima accettava e poi a un certo cosa che non ne poteva più ha cominciato a parlare e questo a lamentarsi come She allora sì a lamentarsi e questo viene cronocato nel Talmud in Bababat lui diceva riponosce la Olam padrone al mondo perché fai soffrire la gente barata c'ha di che tu hai creato gli uomini giusti barata resha e tu hai creato la gente malvagia allora ecco tutta colpa tua e allora tu li metti in queste condizioni nel mondo che sono malvagie e poi gli giang 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 scusi così erano le parole di Giobbe versato verso Dio ma non ci capisce ma noi sappiamo che c'è libero arbitrio quando viene concepito un bambino e comincia a svilupparsi nell'embrione della mamma nell'embrione del utero della mamma allora vengono gli angeli con la nuova anima Dio quest'anima chi deve scendere adesso giù come dovrebbe essere intelligente o stupido facciamo intelligente ok intelligente quest'anima cosa sarà povero o ricco beh facciamo ricco allora ricco sarà sano o sarà un po' malandato ah c'ha soldi intelligente chi sarà diciamo sempre ammalato ammalato cioè tutti diciamo alto basso tutto viene deciso da Dio però non chiedono mai ad Hashem sarà religioso o sarà meno religioso questo non c'entra Dio Dio dà libero arbitrio alla persona se c'è una persona in questo mondo che decide di venire alle mie lezioni o venire al tempio di Shabbat Dio non c'entra niente la tua decisione se tu hai deciso non venire alle mie lezioni non ascoltare alle mie lezioni e non venire al tempio non c'entra Dio niente se è la tua decisione e tu diciamo devi combattere le tue inclinazioni e fare le cose giuste e allora se questo è la religione di essere un uomo giusto o un malvagio è nelle tue mani cosa diceva Giobbe tu hai creato uomini giusti tu hai creato uomini malvagi Dio non c'entra niente tutto il resto se povero ricco stupido questo sì però allora non si capisce quello che ha detto Giobbe che c'è scritto nel Talmud che corrisponde alla verità ok e poi chiede ancora e dobbiamo anche capire ma cosa è l'essenza madregata benoni di questa persona mediocre dobbiamo capire che cosa vuol dire una persona mediocre che è una persona che metà ha mitzvot e metà ha delle trascensione sì un giorno quando gli va bene mangia casher un altro giorno che non gli va bene va bene prenderò un po' che ci costa di meno beh allora questo non è diciamo una persona mediocre perché shame case è così una persona mediocre è una persona che a volte fa la volontà di Dio a volte viene in tempo e a volte no ma allora come ha potuto sbagliare il maestro ora va lo ma di dire che lui è una persona mediocre sì una persona mediocre è uno che a volte fa la volontà di Dio e una volta non lo fa come ha potuto sbagliare lui ha sbagliato pensando che lui è un bene perché lui era un vero sadique però ci dovrebbe essere delle possibilità di sbagliare se una persona mediocre è una persona che a volte si e a volte non come ha potuto sbagliare pensando così beh no dai sappiamo beh no dai si sa dell'opasic Pumei Migirsa non ha mai smesso di studiare la Torah ma fino che a fino Malach a Movet perfino l'angelo della morte quando riceve l'elenco delle persone che deve pigliare e riportarli da Dio e allora lui ha il compito di andare a visitare tutta questa gente allora lui ha ricevuto sul suo elenco anche la persona di Rabb e allora arriva da Raba ma quando una persona è occupata facendo una misura non può avvicinarsi lui è come lui ha un scudo che lo protegge che l'angelo della morte non può avvicinarsi un tipo diciamo non so è un scudo maghen è un maghen e allora lui ha i suoi momenti contatti e l'angelo della morte raba aspetterò cinque minuti lui ci trasmetterà prenderà un caffè latte qualche cosa in coca cola non è riuscito a trovare il momento di poter pigliarlo perché aveva sempre diciamo studiato 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 e come è riuscito a prenderlo allora l'angelo della morte ha detto qui è un problema io ho tanto lavoro di fare e questo qua non mi lascia andare avanti e allora ha fatto arrivare una tempesta che c'era diciamo qualche diciamo nesta diciamo di uccellini che ha fatto cadere allora lui in mezzo allo studio ha preso diciamo la scala ha cercato di salire e mentre stava salendo sulla scala allora ha fatto l'angelo della morte ha fatto rompere una delle scalette e questo secondo quando ha pigliato fino a questo punto ha potuto ha dovuto fare per poter prenderlo prenderlo perché lui era un uomo giustissimo perché non perdeva neanche un attimo allora se era questo la persona a dire abba beh come poteva sbagliare perché lui a metà diciamo a volte prende diciamo un po' maialino e a volte fa a volte va in tempo e a volte non va in tempo a volte diciamo spara la gente ma non è possibile quindi dobbiamo capire quando una persona viene diciamo giudicato come una persona mediocre poi abbiamo un'altra che mara veod è ancora di più che non possiamo dire che una persona mediocre è un benone è un uomo metà metà nel momento che una persona ha le possibilità di fare una trasgressione necra viene chiamato rasha gamor proprio un vero malvagio c'è una persona che una volta in tre anni deve ammazzare qualcuno una volta in tre anni e allora se tu pensi una volta in tre anni una volta in dieci anni tu non sei un mediocre tu sei un malvagio allora quanto è possibile che questo sia un mediocre certo una persona c'è fa sempre del bene 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 però in un momento di diciamo di debolezza ha fatto qualche vera aveva una fame e proprio non c'era nessuna cosa che c'era allora ha preso una pizza diciamo è meglio non chiedere come ha fatto però dopo soltanto una volta è successo e poi diciamo faceva soltanto cascere e se lui andava allora prendeva sempre diciamo una sandwich con lui di cascere ma siccome ha fatto una volta una trasgressione è come quei vasi cinesi che costano milioni milioni è spaccato però c'era un perfetto diciamo un maestro incollato che proprio non si vede nessuna non può essere venduto come perfetto allora già scende di diversi milioni nel prezzo allora un benoni è una persona che adesso è tutta a posto però una volta nel momento di debolezza diciamo ha mangiato qualche pizza diciamo che non si sa di che provenienza no dopo che ha mangiato questa pizza diciamo nel momento di debolezza ha fatto teshuva e non è successo mai 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 più è un tzaddik perfetto non un uomo mediocre diventa un tzaddik come Moshe era meno e allora questa persona mediocre com'è possibile di trovare ah è chiaro chiaro una persona che fa tutto quello che c'è scritto nella Torah questo è sicuramente che deve fare se non fa allora sei proprio malvagio però ci sono tanti di quelle leggi che hanno aggiunto i maestri andare nel tempo era bene hanno visto diciamo ci sono problemi allora hanno aggiunto tante cose come ci sono persone che dicono ah questo dirà bene allora dire che sono persone giuste i maestri quando loro hanno aggiunto vuol dire hanno saputo che fa tante difficoltà su tante però se loro hanno deciso vuol dire che avevano ragione abbastanza diciamo giustificate e allora persone che fanno tutto della Torah a Tfilin tutto sabbata c'è ma al 100% però qualche cosetta dei maestri insomma c'è maestri sa com'è allora questo è un mediocre no va a filo dice sempre dalla Dottamun va a filo however anche uno che trasgredisce all'isur calcio non divieto molto leggero ce l'ha di sofferm dei nostri maestri mi crì Russia viene chiamato un malvagio malvagio c'è scritto nella malvagio c'è scritto in due posti una un posto nel secondo capitolo degli Vamot come per il camo di Nina anche nel trattato di Nina e allora dobbiamo ricordare che nella Torà in Devarim i maestri ricarano la facoltà maggioranza di intervenire con quello che fanno loro è Torà ecco così dice l'agmara allora quando è possibile che una persona sarà una persona mediocre è chiaro 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 lui è perfetto quelle che dicono maestri quelle che divertono tutto cento per cento mentre che lui sta andando in tempio vede un ebreo diciamo un po' meno interessato potrà dire vieni ci manca un mignone ma guardi io sono a posto che lui si arancia lui io non mi interessa nella sua vita cioè vede che anche lui diciamo sta prendendo qualche cosa non ho guardato non ho visto e allora siccome lui pensa solamente di se stesso e non pensa di accontentare Dio perché quando c'è un altro ebreo che fa qualche cosa di male Dio non è contento allora tu volendo fare Dio contento dovrai cercare che anche questo qua si farà e allora malvagio non è perché lui è perfetto però siccome non ha influenzato un altro e non ha ostacolato qualcun altro di fare la cosa giusta allora è una persona mediocre così pensiamo no chi ha la possibilità di ostacolare qualcun altro di fare uno sbaglio non ha voluto diciamo ostacolarlo è chiamato un malvagio nel sesto capitolo del trattato shavuot perché perché tu non interessa Dio ti interessa trattato di avere una biletta nel viale di Moshe Rabbein io sono a posto io faccio tutto non faccio niente di male tu devi pensare di Dio siccome questa qua sta facendo uno sbaglio allora Dio sarà scontento allora a te devi disturbare cosa vuol dire tu non ti interessa non voglio stacalarlo sei un malvagio e allora questa persona mediocre quando possiamo trovarlo pensiamo quando uno tralascia qualsiasi mitzvah positivo che 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 la possibili lui ha la possibilità di osservare e ti do un esempio come con ognuno ognuno che ha la possibilità di occuparsi di studiare la Torah e lui non si occupa della Torah sta aspettando l'autobus autobus tra due minuti allora guardi qui guardi lì vediamo le vetrine qui e lì tu potrai in questi momenti studiare cioè con te un libro pensare a quello che hai studiato prima tu hai preso due minuti dello studio della Torah e l'hai sprecato hai avuto la possibilità di studiare la parola di Dio nella Torah e tu non lo fai e ti careti sarai proprio castigato che lo per dati un esempio c'è un re che ha un suo figlio un principe e allora il principe è andato in vacanza è vicino alla piscina il re vuole dargli un messaggio molto importante scrive un messaggio dal suo uomo di fiducia prende il mio elicottero e portilo al principe che lui è in questa piscina arriva l'elicottero con questo uomo di fiducia in una busta sigilato principe ho un messaggio importantissimo del tuo padre il re di questo paese mi ha mandato col suo elicottero privato eccolo mettilo lì sto prendendo adesso il sole non vedi che sono occupato è la stessa cosa Dio mette la sua intelligenza nelle parole della Torah e ti dà possibilità di studiare ai due minuti finché arriva l'autobus lo tram tu hai trovato tempo di andare a visitare vedere qui cosa c'è io guardare diciamo quante stelle ci sono hai vergognato la parola di Hashem Upshita e questa è una cosa certa di micro irrasha che viene chiamato un malvagio c'è molto di più beh ovvero insurde rabbata uno che trasgredisce qualche legge dei maestri è così come abbiamo portato di questi Talmud eccetera siamo costretti a dire la persona mediocre non ha neanche la trasgressione di perdere un attimo di Torah non perde nulla neanche di perdere un attimo di poter studiare che questo non è facile di avere sempre la mente attaccata e non perdere neanche un mezzo attimo di Torah perciò Ta'arama ha potuto sbagliare cioè lui era un uomo giusto però possiamo capire come ha potuto sbagliare Biasmo in se stessa Lomar dicendoci Ubenri che era una persona mediocre perché una persona che fa il minimissimo di male non è più un mediocre è un malvagio allora questo è la prima metà del suo opera di Tania di Lekutemare chiediamoci c'è questa persona potrà fare una mezzua di più no fa tutto fa tutto fa tutto tutto ha trasgredito qualche cosa non ha perso che cosa vogliamo da noi che cosa posso fare sono Ubenri voglio essere un sadì cosa devo ancora fare faccio tutto non faccio niente di male che cosa devo fare Dio qui ogni singola persona deve rendersi conto che non basta fare con mani e piedi tutto dipende da che sentimenti da che cosa ti spinge di fare la volontà di Dio c'è uno tipo molto pignolo odia il fuoco odia brodo troppo caldo io non voglio essere inverno perché non mi piace il caldo io non mi piace allora faccio tutto allora lui non fa mai dei sbagli perché non vuole essere in un inferno lui è una persona che possiamo dire il giusto di Dio si pensa poco lui non mi piace il caldo o c'è un'altra persona che se diciamo nei ristoranti migliori si mangia un buon mister e favoloso possiamo immaginare quello che c'è in paradiso un sinfonia wow 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 mi piace io la musica wow possiamo immaginare lì Dio anche non c'entra niente lui gli piace la musica gli piace le cose cose sono tutto dipende dai sentimenti dall'amore e dal timore che hai nel tuo cuore e questa è la ragione perché è stato proprio rivelato lo studio di chassidismo per fare crescere la tua natura il tuo amore intrinseco che hai nel tuo cuore verso osservare l'interesse di Dio e non chassidim shalom desecrare diciamo disobbedire la volontà di Dio e questo viene tramite lo studio della chassidut che ti mette che ti mette in condizione di poter sviluppare le tue emozioni interne che saranno messi proprio all'opera di fare di questo mondo un mondo migliore verso Dio e verso tutte le altre gente ebrei e non ebrei che in questo mondo sarà un posto meraviglioso questo è chassidismo scusi ma per riepilogare potremmo dire che lo tzaddik è colui che riesce a mettere il sentimento in tutte le azioni che fa tutte le mitzvot che fa il il rasha è colui che non mette sentimento fa del male fa del male fa del male la persona mediocre è quella che non riesce a mettere sempre tutto sentimento bravo fa tutto però manca non sempre c'è tutto il sentimento si si bravo bravo anche salam e ci vediamo giovedì torniamo a studiare perché amore e ci vediamo le le le